La villa del 1700 circa, la pianta è stata messa alla fine del 1890, quindi successiva rispetto al parco originario. La pianta è sempre una pianta importante ed è in condizioni manutenuta, dovrebbe essere curata. Questa in particolare ha avuto una rottura del tronco, c'era sindaco provvidenti e si è provveduto a cercare di salvarlo, è stato fatto un intervento importante per salvarlo. In particolare, mi piace ricordarlo, è stato chiamato mio padre, ha progettato un sistema di martinetti per evitare che il tronco si aprisse ancora di più e poi come si vede andando a vedere vicino alla pianta ci sono dei cavi d'acciaio che tengono le varie branche. Fortunatamente non era stata presa in considerazione un'altra soluzione, quella di fare delle tale e distribuirle in città perché si sarebbero formate delle piante enormi che sarebbero andate sicuramente a fare dei danni alla città. È una pianta particolare, vengono chiamate impropriamente fitofache perché vanno a inglobare tutto quello che cresce. Infatti si può vedere dietro la cancellata perché oltre a questo sistema di protezione della pianta era stato fatto un sistema di protezione con una grada a delimitare la pianta rispetto alle stalle per i cavalli che c'erano qua in questa zona. Questo era, nel progetto che ha fatto Caterina Sartori, era uno dei punti centrali del parco che si sarebbe verificato. Lei ha fatto la ricostruzione di tutto il giardino con uno studio molto attento e questi erano degli elementi principali e nel progetto del parco sarebbe stata ulteriormente valorizzata. È un esemplare molto importante sia per la grandezza del fusto sia per la data di impianto. Come fusto già si può vedere, e torno a ripetere, il fusto, quello che ora si vede aperto in due, era un tronco unico. È uno di quelli che ha il diametro più grande, non solo in città, ma penso anche nella regione Sicilia e potrebbe essere paragonato pure al ficus che c'è all'orto botanico di Palermo. Solamente quello è un ficus macrofilla, questo è un'altra spesa, sempre fa parte dei ficus, però è un'altra varietà, ha le foglie più piccole. Potrebbe essere uno degli elementi da rivalorizzare e essere rinserito fra le piante monumentali che ci sono in città. Grazie a tutti.